Dreams è l'ultima fatica in ordine temporale di uno studio di sviluppo ben noto sulla attuale ammiraglia Sony, ovvero Media Molecule, che sulla piattaforma precedente si è decisamente fatta notare grazie ad un titolo anomalo, unico e decisamente intrigante, ovvero Little Big Planet. Punto di incontro tra programma di elaborazione, construction kit e motore grafico per utenti, Dreams è dotato di una interfaccia che ricorda i più bizzarri giochi di creazione videoludica o in generale i giochi dedicati al mondo creativo, tra i quali l'indimenticabile The Movies, gestionale di culto ideato dal geniale sviluppatore britannico Peter Molyneux nel lontano 2005. Il titolo non è citato a caso perché per chi ama il cinema amatoriale esiste pure la possibilità di creare piccoli filmati d'animazione ovveri e propri cortometraggi e film animati completi. L'editor inserito nel gioco è allo stesso tempo molto semplice ed immediato ma anche completo e decisamente professionale. Uno strumento ideale per tutti quelli che hanno sempre sognato di creare videogiochi ma non lo hanno mai fatto, per mancanza di competenze tecniche o semplicemente di tempo a disposizione per imparare i programmi di creazione grafica, i tool di sviluppo e i principali motori grafici. Utilizzare i tool di modellazione, scultura e programmazione è molto più semplice di quanto si possa immaginare con risultati strabilianti. Dreams permette di creare ogni tipo di gioco, dallo sparatutto alla Doom fino al gioco di ruolo alla Final Fantasy e persino sua maestà Pong, anche se pare che il genere più gettonato dai giocatori e creatori sia il sempreverde platform. Partendo dalle versioni demo create dallo stesso Media Molecule, si sono poi aggiunti moltissimi progetti degli utenti con una libreria in continua crescita, anche molto ordinata e piacevole da sfogliare. In seguito, a detta dello sviluppatore, dovrebbe arrivare una interessante modalità storia, ancora non implementata nel titolo. Il gioco supporta l'uso del controller alternativo PlayStation Move, forse più indicato per controllare il nostro cursore sotto forma di omino volante, ma è questione di gusti. Il sensore di movimento del DualShock appare preciso e raramente si desidera qualcosa di meglio. Il comparto grafico del titolo si presenta molto curato e semplice, pur dovendo gestire decisamente moltissime cose, dai tool di sviluppo all'enorme libreria incorporata nel titolo. L'interfaccia è semplice, immediata e, per chi ha giocato i precedenti titoli sviluppati dallo sviluppatore, è persino familiare. Il bello di Dreams è proprio la possibilità di poter avere infinite possibilità. E non è solo un gioco di parole, perché il titolo permette di creare letteralmente qualunque cosa, senza limiti di gameplay, con le idee libere di svilupparsi in ogni direzione. Esplosione di colori o spazi chiusi e tetri, nulla è proibito. Oltretutto il titolo è ottimo sia sul 3D che sul 2D, cosa importante per chi ama la scena dello sviluppo indipendente. Anche il sonoro di Dreams non delude sotto alcun fronte, dalla colonna sonora all'ottima qualità del doppiaggio poiché il titolo è completamente localizzato in italiano. Ovviamente la possibilità di creare musica personalizzata ed effetti sonori a tema rende il discorso molto soggettivo e più ampio. Lo spirito di base che regnava nella serie Little Big Planet si riscontra decisamente nell'ultima fatica dello sviluppatore britannico, ovvero quella di considerare il videogame non solo per una fruizione passiva, ma anche per una importante fase di creazione e soprattutto condivisione. Crea, sviluppa e condividi con i tuoi amici. Questa è la filosofia attuale. Giocabile in single player o anche in multiplayer, il titolo avrà infine, come già detto, secondo gli annunci di Sony, anche una versione in realtà virtuale per il visore PlayStation VR, da tenere d'occhio per chi fosse felice, possessore della periferica. L'ultima fatica di Media Molecule si indirizza a quella più o meno grande fetta di utenti PlayStation 4 che considera molto più divertente creare mondi piuttosto che giocare a qualcosa di già stabilito. Un titolo potenzialmente infinito, dotato di tante risorse di creazione a metà tra motore grafico e construction kit che in futuro, promette Sony, supporterà persino la realtà virtuale. La formula Early Access e il prezzo budget di 29,90€ invogliano all'acquisto, anche se per i meno esperti potrebbe essere un titolo complesso. Se vi piace il mondo dello sviluppo, smanettare con grafica e modellazione o perdervi tra mille opzioni dei tool disponibili, adorerete comunque Dreams. Perché giocare con i sogni, si sa, è una delle cose più divertenti di sempre.